Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Ragazzi mi raccomando un bel pollicino in su Iscrivetevi nel canale se non avete fatto E quest'oggi ci andremo appunto a farci una partita in singolo Niente ragazzi ci vediamo lì Però mi raccomando un bel pollicino in su Iscrivetevi mi raccomando Vabbè Animazione I costieri bellissimi Niente comunque ragazzi allora Prima partita che faccio del giorno Ok ci buttiamo andiamo là Per quel posto là Casa delle formiche Allora ci sono una sola volta Devo essere sincero No non è brutta Cioè per me hanno ammazzato Perché è gracciatoissimo Cioè proviamo adesso Ma è la sento buona questa partita Speriamo però di trovare un ottimo loot Vabbè ma non detto Cioè giusto giusto L'arma col mirino Tra l'altro Cioè è pure con l'arma Quella che do io Tutto blu Niente Oh finalmente un fucile Fucile A pompa Non male Eh vabbè altri 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 passi Non male Posso curarmi? Ok allora facciamo così Questa la butto Il FAMAS Lo levo pure Che non mi piace E mi prendo Il Il fucile Quello bianco Beh l'R si Questo lo ricarichiamo Vabbè questo è meglio Vi ricordo ragazzi Di iscrivervi il canale Se non è fatto Anche perché Giovo in live Per Con gli iscritti ovviamente Anche nei terzetti Quindi se vi interessa Questo qua Mannaggia Ho visto ora Eh no amico Non si gioca così Cioè Non è che Ma che poi ha costruito E si è buttato Cioè se devi costruire Prenditi l'altezza Mannaggia Comunque ragazzi Dicevo Mi raccomando Iscriviti al canale Perché vi ricordo Che gioco Se vi interessa con voi In live A fare i terzetti Ovviamente Gioco anche col mio team A volte Quindi non Dai Non mi preoccupate Però con gli iscritti Ci dovrei anche giocare Sì c'è un team Però composto Da due o tre persone Quindi Non lo so Se vogliamo essere Troppo Quattro persone fisse Va bene Però Dove essere gente Un po' esperta Tipo il mio livello Questo Aveva perso Tipo le chiavi di casa No scherza Le chiavi della macchina Questo era un bot Secondo me Sì c'è un bot L'ho visto L'ho visto Ok Non era Non era full Va bene Ok Probabilmente O stava andando In cerca di cure O non lo so Cioè Non penso che C'è una persona normale Cammini Con 10 hp Forse Non lo so Perché comunque Un colpo solo Gli è entrato Mi Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ci è rimasto parecchio male questo. Vabbè, noi ci prendiamo questo R blu che non ci fa male. Grazie a tutti. 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 Ve lo dico. Non doveva scappare. Non so se avete visto ma... Ho visto qualcosa di là, però... Ma non lo vedo. Ho visto tipo il potere, non so, tipo... Partire, ma... Come se avesse sparato, ma non lo vedo proprio. Ah, che sta facendo... Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando, ma... Oh, che... Oh, che è bello, che è bello, che è bello. Ehm... 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 Ehm...